Siamo qui nella suggestiva location di Taormina e tutto è pronto per domani perché domani inizierà il Taormina Film Festival la Kermess che avrà una durata di 7 giorni dal 15 al 22 giugno e che vedrà ospiti importanti primo fra tutti Russell Crowe che presenterà The Man of Steel ovvero l'uomo d'acciaio la versione diciamo moderna di Superman ma saranno presenti anche Luca Argentero Erwer Zigova si vocifera addirittura una casalinga disperata e noi saremo proprio lì sia davanti le quinte che è dietro per raccontarvi tutto quello che succede